Partita decisiva, se vogliamo andare avanti dobbiamo vincere domani, è una partita difficile, abbiamo di fronte un adversario di qualità, che gioca bene, che ha velocità, però siamo pronti per fare grande partita per vincere questa partita, per poter seguire tutte le competizioni. Sappiamo anche che per andare avanti nell'ottava di Champions abbiamo bisogno delle combinazioni di risultati, però è tutto aperto, dipende tutto da domani, da vincere domani per seguire e dopo giocare in un'altra finale in Ucrania. Ecco Raffa, come sta l'Atalanta? Sta bene, pronta, carica al punto giusto per affrontare la Dinamo Zagabria? Sì, sì, sta bene, pronti e adesso abbiamo queste ore per recuperare e riposare, ma pensieri già è nella partita, abbiamo lavorato oggi, la squadra sta pronta e sono sicuro che faremo una grande partita per portare a casa i tre punti. Grande Atalanta contro la Juventus, l'unica nota negativa è il risultato, cosa aveva lasciato questa partita in chiave Dinamo? Eh, dispiace perché abbiamo fatto una grande partita contro la Juventus, potevamo vincere sicuramente e dopo alla fine abbiamo perso, però è stata una partita combattuta, è giocata molto bene, non dobbiamo fare errori che abbiamo fatto contro di loro, ma anche secondo me abbiamo avuto tante occasioni in più di loro nella partita e alla fine abbiamo perso, però è stata una partita giocata bene, è quello che dobbiamo fare domani e sbagliare il meno possibile per uscire con la vittoria. Con il dodicesimo uomo in campo in più i vostri tifosi, i tifosi dell'Atalanta? I nostri tifosi sono sempre stati fantastici e sappiamo che domani non sarà diverso, quindi aspettiamo tutti per aiutare noi a fare i tre punti.